Santa Maria prega per noi, Mare di Dio e Madre nostra. Il mese Mariano è quindi il tempo di altarini, purtroppo però quest'anno a causa del coronavirus, del male del secolo, gli altarini a Bivongi sono pochissimi, anzi se ne vede qualcuno. Donnenzo ha pensato bene di celebrare Messa a Santa Maria, la chiesetta che sta in alto, nella zona alta del paese. Quest'anno abbiamo pensato di valorizzare questo tempo proprio perché c'è necessità di ripartire e di ripartire con la marcia giusta e credo che il ritrovarci come comunità ci ha fatto molto bene stasera. Proprio in questo periodo abbiamo visto quanto è stato difficile questo coronavirus e abbiamo capito che il problema non è stato solo un problema di salute, ma il problema è veramente il virus più grosso e il virus delle relazioni che si sono perse. Per cui da questo punto di vista è stato un primo esperimento di celebrazione all'aperto, perché questa chiesetta è piccolina, ma per ritrovare il senso di appartenenza e di comunità e soprattutto vincere il terrore e la paura. La parola di Dio questa sera ci è venuta molto incontro. La chiesa ha una sua storia, una storia che risale al XVI e XVII secolo. Potrebbe, gli studiosi la chiamano, alcuni studiosi la chiamano Santa Maria del Popolo, che si rifà a quella chiesa che è stata dismessa e si trovava nella zona di Miglioro dove c'è il Calvario. La testimonianza di questa chiesa del 1600 lo dimostra una campana dove c'è incisa la data e la donazione di una devota. Quello che noi vediamo adesso non è la chiesa che dicevi tu, sono rimaste le mura, come sappiamo, dietro questa facciata che noi vediamo ed è rimasta questa testimonianza molto bella della campana che ricorda appunto come questa chiesa veniva usata per la celebrazione anche dell'Eucaristia. Sì, certamente devo dire che ho avuto grande collaborazione in questa manutenzione ordinaria. Abbiamo cercato di dare un po' di ordine alle cose belle che questa chiesa custodisce, tra le quali un bellissimo appunto crocifisso. Sì, certamente devo dire che questa chiesa custodisce, L'agurio che io ho fatto, che faccio anche oggi in questa festa di Santa Rita e anche festa per noi della Madonna è proprio questo, dobbiamo generare futuro. E solo se abbiamo la fede di Maria possiamo attraversare questo momento di gestazione, è un momento come dicevo già nell'Omelia in cui tutti siamo chiamati a pensare al futuro e anche e soprattutto al nuovo di Dio che verrà e tutti dobbiamo metterci in movimento, tutti dobbiamo metterci in movimento per capire qual è l'orientamento giusto per ripartire con passi nuovi. Ecco abbiamo qua per chiudere Don Enzo la statua della Madonna di Fatima. Sì è stata appunto acquistata da alcuni anziani di questo quartiere ed è stata una grande intuizione, pare che abbia un 30 anni questa piccola statua, è stata un'intuizione molto bella perché il messaggio di Fatima rimane ancora attuale ancora oggi. La Madonna ha chiesto a tutti la penitenza, la preghiera per i peccatori, quindi per ciascuno di noi e per tutti i peccati che si consumano nel mondo ma ci ha fatto una grande promessa che il suo cuore trionferà e questa è la grande speranza che dobbiamo avere.